Parla come mangi e forse anche gli italiani manipolati ti capiranno. Bill Gates non ha capacità divinatorie, non ha neanche la palla di cristallo. In rete però potete trovare il famoso video del 2015 in cui preannunciava che negli anni successivi ci sarebbe stata una pandemia, un'epidemia. Poi effettivamente scoppia davvero la pandemia da coronavirus. Bill Gates non ha capacità divinatorie, Bill Gates non ha la palla di cristallo. Pochi mesi fa, col coronavirus già ampiamente presente da un anno e mezzo circa o forse anche di più, Bill Gates pochi mesi fa rilascia un'altra intervista e c'è un altro video in rete. In questa intervista Bill Gates preannuncia che sarebbe scoppiata una seconda pandemia molto molto più grave e letale del coronavirus. Pochi giorni fa salta fuori che nell'Ucraina orientale c'erano 18 laboratori clandestini bonificati da chi di dovere, laboratori clandestini travestiti da comuni laboratori d'analisi. In questi si sviluppavano armi batteriologiche e si facevano esperimenti. Si viene a sapere che i russi erano anche molto 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 preoccupati di Chernobyl, per Chernobyl, per qualcosa che c'era adesso a Chernobyl. Bill Gates non ha capacità divinatorie, non ha la palla di cristallo. Se non la capite così non so che dirvi. Giorgio Riccardin, il canale storico, Giorgio Riccardin 2, il canale muletto su YouTube, il profilo SharkTube Giorgio Riccardin e il canale Telegram Giorgio Riccardin. E Bill Gates non ha capacità divinatorie, Bill Gates non ha la palla di cristallo. Quando parla è perché sa e sa perché c'è dentro fino agli occhi.